2 giugno 1946, 2 giugno 2021, la Repubblica Italiana celebra 75 anni di vita, anche all'Aquila un anniversario ancora segnato dalle restrizioni imposte dalla pandemia, con una cerimonia ridotta ma comunque occasione per riflettere sul paese oggi. Schieramento in forma minima, comunque un momento sentito al quale hanno partecipato anche molti aquilani di passaggio. Una tappa di fondamentale importanza per la storia del paese per il prefetto Cinzia Torraco che ha letto il messaggio del presidente Mattarella. Il capo dello Stato ha voluto sottolineare come in questo periodo così difficile di pandemia sia stato determinante e importante quel rapporto di sinergia fra le istituzioni e gli amministratori locali per contenere la ricrudescenza pandemica e anche per la tenuta anche della coesione sociale, ma anche fatto presente quindi come accanto al momento di dolore, di sofferenza che ha portato questa pandemia c'è un desiderio di ripartenza, di una ripartenza che però dipenderà da ciascuno di noi, dal contributo di tutti e soprattutto da quella capacità di fare rete fra istituzioni e società civile. In un momento di grande difficoltà per il paese si guarda però con ottimismo al futuro e lo fa anche l'Abruzzo che si appresta a tornare in zona bianca, come ricorda il presidente della regione Marco Marsilio. Vogliamo sperare anche noi che questo momento simbolico di festeggiamento della nostra Repubblica, dei valori che uniscono gli italiani sia anche un momento davvero di rilancio, di riapertura, un momento simbolico di ripartenza reale. Bruzzo sarà la quarta regione in Italia a entrare in zona bianca e oggi sesta nella classifica, chiamiamola così, nel report quotidiano che fa il commissario di governo sulla capacità di somministrazione di vaccini rispetto a quelli che ci vengono distribuiti. Sin dal primo giorno in cui è iniziata la campagna vaccinale avevamo sempre detto e reclamato il fatto che era solo una questione di darceli i vaccini. In questi giorni si fa anche la vaccinazione dei maturandi. Io sono molto felice del fatto che i ragazzi abbiano risposto in maniera molto importante a questa prima finestra, a questa prima occasione perché per arrivare all'immunità di greggio bisogna vaccinare tutte le fasce di età ed è importante che anche i più giovani, cioè quelli magari meno esposti, quelli che subiscono meno conseguenze, capiscano però l'importanza, il valore sociale di un'immunizzazione.